Mi chiamo Ludwig Schlefli e sono un geometra svizzero. Sono vissuto nel XIX secolo e sarò io ad aprirvi le porte della quarta dimensione. Non usiamo mezzi termini, sono un visionario. Sono uno dei primi ad aver realizzato che gli spazi con un grande numero di dimensioni esistono veramente e che possiamo studiarne la geometria. Gli esseri piatti che vivono in un piano possono comprendere l'esistenza di poliedri in dimensione 3. Perché noi non dovremmo comprendere i poliedri in dimensione 4? Uno dei miei più grandi contributi è stato descrivere tutti i poliedri regolari in dimensione 4. Che cos'è la quarta dimensione? Molte cose sono state scritte a questo proposito. Gli scrittori di fantascienza si danno la pazza gioia. Io vi spiegherò la lavagna. Una lavagna un po' magica in verità. L'importante è prepararsi a fare astrazione dal mondo a cui siamo abituati ed immaginare un mondo al quale i nostri occhi e i nostri sensi non danno direttamente accesso. Dobbiamo fare prova di astuzia, esattamente come i rettili. Adesso salirò su un promontorio, che voi purtroppo non potrete vedere, e cercherò di descrivervi cosa vedo. Prima però traccio una retta alla lavagna. Fisso un'origine. Ogni punto su questa retta può essere trovato in riferimento alla sua distanza dall'origine, munita di un segno meno se il punto si trova a sinistra, e di un segno più se è a destra. Di solito si denota questo numero con x, e lo si chiama ascissa. Dato che la posizione di un punto su una retta è descritta da un solo numero, si dice che la retta ha dimensione 1. Ora traccio un secondo asse, perpendicolare al primo. Ogni punto del piano della lavagna è ora perfettamente descritto da due numeri, che di solito sono denotati con x e y, la scissa e l'ordinata. Il piano è di dimensione 2. Se aveste dovuto spiegare ad un essere che vive su una retta che cos'è un punto sul piano che lui non può conoscere, avreste potuto semplicemente dirgli un punto nel piano è un dato costituito da due numeri. Passiamo alla terza dimensione. Il gesso scrive nello spazio e traccia un terzo asse, perpendicolare agli altri due. Un punto nello spazio è descritto da tre numeri, x, y e z. Si potrebbe dire ai rettili curiosi di sapere che cos'è il nostro mondo. Un punto nello spazio corrisponde a dare tre numeri. Passiamo alla quarta dimensione. Possiamo tentare di disegnare un quarto asse, perpendicolare agli altri, ma ciò è impossibile. Allora bisogna procedere in un modo diverso. Certo, possiamo semplicemente dire che un punto nello spazio di dimensione 4 è il dato costituito da quattro numeri, x, y, z e t. Tuttavia, non è che questo ci chiarisca le idee. Ciononostante, cerchiamo di farci, malgrado tutto, un'idea intuitiva di questa geometria. Un primo metodo consiste nel procedere per analogia. Ecco un segmento. Poi un triangolo equilatero. Ed infine un tetraedro. La nostra lavagna magica ci permette di disegnare nello spazio. Come continuare questa successione in dimensione 4? Si può osservare che il segmento, il triangolo, il tetraedro hanno rispettivamente 2, 3 e 4 vertici. Possiamo quindi tentare di continuare con 5 vertici. Proviamo. Nel segmento, nel triangolo o nel tetraedro, ogni vertice è congiunto da uno spigolo ad ogni altro. Noi dobbiamo congiungere i 5 vertici tra di loro. Contiamo uno spigolo, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci spigoli. Nel tetraedro c'è una faccia triangolare per ogni insieme di tre spigoli. Se procediamo in modo analogo, troviamo una faccia triangolare, due, tre, dieci facce. Ma se si vuole continuare con l'analogia, bisogna anche aggiungere una faccia tetraedrica per ogni insieme di quattro vertici. Ne troviamo 5. Abbiamo costruito il nostro oggetto quadridimensionale. Chiamiamolo simplesso. Facciamolo ruotare nello spazio, come abbiamo fatto con il tetraedro. Certo, bisogna immaginare che il simplesso ruoti in uno spazio di dimensione 4. Inoltre, ciò che vedete è solo una proiezione sulla lavagna. Quello che complica un po' le cose è il fatto che le facce si mischino e si incrocino. Ebbene sì, bisogna avere un po' di esperienza per vedere in dimensione 4. Possiamo prendere il simplesso, che vive nella quarta dimensione, e spostarlo in modo che intersechi progressivamente il nostro spazio di dimensione 3. Nello stesso modo in cui i rettili vedevano un poligono che appariva e poi scompariva, noi vediamo un poliedro di dimensione 3 che appare, si deforma e poi scompare. Ecco, il simplesso ha attraversato il nostro spazio di dimensione 3. Faremo ora conoscenza con altri poliedri di dimensione 4, che attraversano il nostro spazio di dimensione 3. Eccoli per cubo, che generalizza la famiglia, che comincia con il segmento, il quadrato e il cubo. Bisogna riconoscerlo, farsi un'idea intuitiva con il metodo delle sezioni che abbiamo appena usato è ben difficile. Ho scoperto l'analogo dell'Icosaedro e quello del Dodecaedro. Portano dei nomi complicati, ma li chiamerò semplicemente il 120 celle e il 600 celle, dato che il primo ha 120 facce e il secondo ne ha 600. Osservate il 120 celle che attraversa il nostro spazio. Ed ecco il 600 celle. Chiaramente, se dico che un poliedro di dimensione 4 ha 600 facce, sto parlando delle sue facce tridimensionali. Nel 600 celle, le 600 facce sono tutte dei tetraedri. Il 120 celle, invece, è costituito da 120 dodecaedri. Impareremo, tra poco, a conoscerli meglio. Per osservare oggetti quadridimensionali, con i nostri occhi tridimensionali, possiamo servirci delle loro ombre. Gli oggetti sono nello spazio di dimensione 4 e li si proietta sul nostro spazio di dimensione 3, esattamente come un artista proietta un paesaggio sulla sua tela. E' quello che abbiamo già fatto con il simplesso. Ecco l'ipercubo. Ruota nello spazio, per permetterci di apprezzarne i dettagli. Vedete, ad esempio, che l'ipercubo ha 16 vertici. Ecco un nuovo arrivato, la mia più bella scoperta. Un oggetto che chiamerò il 24 celle, che non ha analogo in dimensione 3. Una creatura puramente quadridimensionale. Sono molto fiero di averlo scoperto. Ammirate. 24 vertici, 96 spigoli, 96 triangoli e 24 ottaedri. Una meraviglia. Ecco l'ombra del 120 celle, in tutta la sua maestosità. Maestosità complessa, bisogna pur dirlo. E'ấu6. E'ấu6. Grazie a tutti. Penetriamo al suo interno ed esaminiamone la struttura. Ammirate. 600 vertici. 1200 spigoli. Da ogni vertice partono 4 spigoli, una struttura completamente regolare. Tutti i vertici, tutti gli spigoli giocano lo stesso ruolo. E dire che la proiezione rompe, in un certo senso, la regolarità dell'oggetto. Fate uno sforzo di immaginazione. Immaginate l'oggetto nello spazio di dimensione 4, in cui un enorme gruppo di rotazioni permuta tutti questi vertici e questi spigoli. Ecco il campione, il 600 celle, come una gigantesca macromolecola con i suoi 720 spigoli e 120 vertici. 12 spigoli partono da ogni vertice. La nostra avventura con i poliedri di dimensione 4 non termina qui. C'è da scommettere che le loro proiezioni stereografiche ce ne daranno un'intuizione ancora migliore. La nostra avventura La nostra avventura con i poliedri di dimensione 4 non termina qui. La nostra avventura con i poliedri di dimensione 4 non termina qui.